Questo è il mio MOBA in grenadiglia. È un clarinetto che mi ha appena preparato. Ho chiesto delle prestazioni particolari per il Clarinet Fest di Assisi. E questo invece è il mio MOBA in cocobolo. Anche questo appena preparato per Assisi, voglio dare proprio il massimo a questo evento. Voi quale preferite? Ciao! Grazie a tutti!